Si sono svolte all'Università degli Studi di Teramo le celebrazioni del 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Nel discorso fatto dal questore di Teramo, Pennella, è stato ripercorso tutto il lavoro portato avanti nell'ultimo anno. In particolare il lavoro svolto per contrastare in tutta la provincia i reati di violenza di genere e lotta agli stupefacenti, frutto di un importante percorso lavorativo tracciato in sinergia con tutti gli enti locali. È una giornata importante per noi e la testimonianza di tanti tanti anni di impegno a servizio della collettività per garantire il benessere dei cittadini, cosa che le donne e gli uomini della Polizia di Stato di questa provincia, che io ho l'onore di dirigere, interpretano in maniera mirabile. Un anno, sono due anni ormai, ma un anno di rusinghieri risultati da un punto di vista operativo, soprattutto nel campo della lotta agli stupefacenti e del contrasto ai reati della violenza di genere. Per cui abbiamo tracciato un percorso lavorativo molto serio, molto concreto e continueremo su questa strada, forti anche dell'interazione quotidiana che abbiamo con i cittadini, con le istituzioni locali, che collaborano a tessere quella rete interistituzionale che consente al meglio di fornire il prodotto sicurezza alla collettività.